In altre parole, buona domenica sera a tutti. Scontro fra il governo e la magistratura, anche oggi un'altra giornata delicata. Intervenuto anche il presidente Mattarella, domani c'è il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto. Ne parleremo questa sera con il nostro professor Gustavo Zagrebelsky e l'oste di questa sera, il presidente della Repubblica delle Parole, Corrado Augas. In altre parole, stiamo arrivando. Musica In altre parole, buona domenica. In un momento delicato, al termine di una settimana davvero difficile, mi è sembrato giusto anche mettermi intorno due, non dico due vecchi, ma due grandi saggi. E quindi ho il piacere di salutare il presidente della Repubblica delle Parole, Corrado Augas. Grazie di essere qui con noi questa sera. E ci colleghiamo con Torino, dove c'è il professor Gustavo Zagrebelsky. Quello vero. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera, professore. E' viva, ma che piacere. E' una bellissima sorpresa. Massimo mi ha fatto davvero un bel regalo, convocandomi insieme a lei. Posso dire altrettanto? Lei sa con quanto affetto ho seguito la sua brillante carriera. Bene, questo è un meraviglioso inizio, ma adesso penso che sorrideremo un po' meno, d'ora in poi, perché entriamo nei temi. Allora, professore, comincio con la perplessità, ovviamente. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto per aggirare la decisione con cui la magistratura ha interrotto i viaggi della MC, la Meloni Crociere, verso l'Albania. Però, a parte che io da stagionato studente di diritto costituzionale mi pare di ricordare che per fare i decreti serviscono dei requisiti di necessità e urgenza, però in generale io volevo sapere, ovviamente, da cotanta fonte, cioè dal professor Zagrebeschi, ma si può fare un decreto? Poterlo fare come fatto è chiaro che lo si può fare. Che abbia poi un'efficacia, è difficile dirlo, intanto perché non conosciamo il testo come verrà approvato, però io vorrei fare questa considerazione. Si fa un decreto per superare una decisione della magistratura fondata sul diritto. Se si fa un decreto per cambiare la normativa, vuol dire che si riconosce che il diritto esistente in precedenza è diverso da quello che si vuole promuovere per il futuro. Quindi è già un riconoscimento che il diritto sulla base del quale i giudici romani si sono espressi è diverso da quello che loro si immaginano, ma non sappiamo quale sarà. In ogni caso bisogna tenere presente che le pronunce dei giudici italiani si basano non su una sentenza della Corte europea, la Corte del Lussemburgo. La Corte del Lussemburgo si è pronunciata sullo stesso caso pochi giorni fa applicando un diritto europeo, cioè una normativa europea. Quindi c'è la legge europea, una sentenza del Lussemburgo e delle decisioni italiane. Allora, supponiamo che si faccia un decreto per superare la normativa italiana. Che cosa si può immaginare immediatamente? Che i giudici italiani si rivolgano, come ovvio che sia, come giusto che sia, si rivolgano in via pregiudiziale, si usa dire, alle corti europee per avere una pronuncia per sapere se la nuova normativa è conforme al diritto europeo. Questa è la procedura. Ed è probabile, mi permetto di dire, senza anticipare, non sono un indovino, che le istituzioni europee confermino quello che hanno fatto finora. E tra l'altro, nel frattempo, l'efficacia del decreto legge, i decreti legge si fanno quando si vuole che ci sia un'applicazione immediata della nuova normativa, ma i giudici, sollevando la questione pregiudiziale, sospendono il loro processo. Quindi c'è il rischio o la possibilità, secondo dei punti di vista, che si entri in un ginepraio da cui non si esce con la soluzione immediata, urgente, a cui il governo aspira. Ecco, professore, però, grazie della lezione di procedura, ma il ministro della giustizia Nordio, a me pare che abbia già voluto tagliare con un colpo il nodo, dicendo che la sentenza, in base alla quale, eccetera, è abnorme. Quindi lui ha già emesso un giudizio. Ecco, allora, forse sulle parole che si usano in questa circostanza ritorneremo, no? Signor Principe delle Parole, ritorneremo, abnorme. Ma, appunto, non è il ministro a dover determinare se una certa decisione è corretta o se è sbagliata o se è abnorme. I giudici che hanno applicato il diritto in quel modo che non piace al governo hanno lo strumento per sapere se è davvero abnorme. E per far questo si devono rivolgere alle istituzioni europee. E i tempi si allungano e nel frattempo tutto si blocca e le polemiche aumentano. C'è poi il racconto, il racconto di queste ultime 48 ore, che è un racconto che è quello del giorno della marmotta, perché si ripete incessantemente da anni ed è ogni volta che un governo di centrodestra prova a fare qualcosa, la magistratura, che è schierata ideologicamente con la sinistra, cerca di fermarlo. E in queste ore stiamo risentendo questo racconto. Questa è la narrazione, sì, che è un tipo di narrazione che è cominciata con Berlusconi, se lo ricorderà. I giudici remano contro, si diceva allora, ed è cominciata... Che devo dire? Qua Berlusconi faceva delle leggi che violavano o rasentavano la violazione costituzionale e poi quando o la Corte o un magistrato di merito le rigettava diceva che era un comunista. Cramellini, Professor Zagrebelsky, io non so che dire perché sono un comune cittadino, mi sembra un attacco alle istituzioni, un attacco a quella divisione dei poteri che dovrebbe reggere uno Stato come il nostro. Ecco, domanda per tutte e due. Questa sera, quest'oggi, il presidente Mattarella da Bari, dove si trova al Teatro Puccini, ha detto che le istituzioni non si limitino a visioni di parte. A chi stava parlando? Stava parlando. Il povero presidente Mattarella deve parlare con cautela perché è il capo dello Stato e non può parlare come parlo io o lei che siamo due battitori liberi che passano sul marciapiede. E forse neanche come parla il professor Zagrebelsky che ancorché privato cittadino ormai ha coperto quel po' di carica. E il conduttore merito è ancora in carica. Quindi Mattarella lascia capire. Secondo lei, professore, a chi si rivolgeva Mattarella quando le istituzioni non si limitino a visioni di parte? Ecco, intanto concordo con Corrado Augas nel dire che il presidente della Repubblica per il suo ruolo in linea di principio non deve alimentare ulteriormente le tensioni. Quindi la cautela è un bene in questi casi. Però io temo che in questo caso, come in tanti altri, ciascuna delle due parti, visto che qui è uno scontro a due, interpreterà il monito, si chiamava così una volta, il monito presidenziale al suo uso e consumo. Ecco, si è rivolto a quegli altri e non a me. Ciascuno dirà la stessa cosa. Io vorrei aggiungere, a proposito, siamo abituati a sentir dire che i giudici che prendono determinate decisioni sono comunisti. Poi si aggiunge, un po' ipocritamente, ma naturalmente questa è una minoranza. Gli altri giudici fanno il loro dovere senza esondare, come ha detto il ministro della giustizia. Però, guarda caso, quelli buoni sono quelli che si occupano di successione testamentaria, di incidenti d'auto, eccetera, eccetera. Quando invece in causa ci sono interessi politici, se la decisione non piace, si dice sono comunisti. Ecco, io vorrei che si finisse, si smettesse di usare questo termine, che sottintende un'accusa gravissima, l'accusa al giudice di aver deciso, non in base alla legge, ma in base alla sua ideologia. Tra l'altro uno potrebbe anche aggiungere, e ci sono dei giudici, a suo tempo, che erano democristiani, che oggi sono di Forza Italia, dei fratelli d'Italia. Quelli lì vanno bene, quelli lì li lasciamo fuori, invece quelli che prendono delle decisioni che non piacciono, vengono bollati come comunisti, che è una parola violenta. Ci siamo abituati, ma è al limite del vilipendio della magistratura. Ha ragione, il giudice obbedisce solo alla legge, come dice una norma, base della funzione giurisdizionale. Se tu gli dici, lei ha giudicato in base alla tessera del partito, ammesso che esista ancora un partito comunista quantificabile. No, ma adesso la variante è se sei un giudice di rifondazione comunista. Che per l'altro non esiste più, diamo questa notizia a chi lo dice, non c'è più, credo, rifondazione del partito. No, è una... Caro professor Zegrebelsky, è una povera cosa che avvilisce la nostra convivenza. Io non sono in grado di fare un ragionamento giuridico come lei e come il professor Gramenelli. Si parli più e proprio di lei di loro. Però, che prima ha definito con tanta proprietà il decreto legislativo. Ma io vedo da cittadino che queste polemiche indeboliscono la convivenza, il nostro modo di stare insieme, anche il nostro modo di polemizzare. Alimentano lo spirito da ultra, da curve che si lanciano in sud e vicende. Noi dobbiamo poter polemizzare, anche in maniera aspra, ma nella correttezza, nel rispetto delle reciproche posizioni. E riconoscendo anche l'avversario non dandogli subito un... Se dite, un sorriso, visto che siete tutte e due amanti della musica, due melomani, e se fosse... Lui però suona, il professore, e io mi sono fermato all'ABC. Vado, è vero, le ascolta e divulga. Allora, che cosa... Questo scontro sarebbe... Che opera sarebbe? Questo? Questo scontro fra il governo di centro-destra e la magistratura. Che cosa potrebbe... Guardi, sarebbe un'opera di verbi... Se fosse una cosa seria, mi ricorda la scena, il professor Zagrebersky se la ricorderà sicuramente, lo scontro terribile che c'è nel Don Carlo tra il re e il grande inquisitore, quando ognuno dei due minaccia la legittimità del potere dell'altro. E' d'accordo, professore? Benissimo. Sì, ma fuori del campo... Tra l'altro aggiungo che io sono sempre in attesa del momento in cui Corrado Augas mi chiamerà per telefono per dire faremo questo esperimento musicale in cui io col mio celebre amico Mario Brunello eseguiremo, non so, una sonata di Beethoven o forse preferibilmente l'arpeggione di Schubert che lei conoscerà benissimo. Quindi sono in attesa perché in quell'occasione lei farà il commento e noi saremo felici su questo. E noi saremo lì con le nostre telecamere a immortalare il momento. Perfetto, perfetto. Veniamo all'altro... No, no, ma un momento. No, ma un momento. Arrendo. Scusi, lei mi ha chiesto a che cosa mi viene da pensare fuori del campo peristico Antigone, Antigone Creonte questo è un riferimento quasi ovvio no, a me veniva in mente il coro dei prigionieri nel Fidelio di Beethoven che forse non è una delle sue opere maggiori ma questo coro è straordinario e io penso che questi migranti nel ventre di quei barconi se potessero cantare se sapessero cantare qualcosa insieme canterebbero il canto dei prigionieri del Fidelio C'è uno che ha cantato molto a questi giorni c'è uno che è il ministro Salvini siamo un programma di parole ormai è difficile stare dietro alle dichiarazioni di questo ministro ieri ha cominciato dicendo che non dobbiamo accogliere in Italia cani e porci poi prima di sera ha dato degli stupratori potenziali a immigranti che stavano rientrando dall'Albania dicendo se adesso questi stuprano poi chiedi di che sarà la colpa e oggi a proposito di un estro comunitario in stato di alterazione che è stato ucciso dalla polizia ferroviaria a Verona ha commentato in tempo reale era appena uscito il lancio di un'agenzia non ci mancherà ecco io chiedo a entrambi ma come fa sempre ad avere una parolaccia buona per tutti? vuole cominciare lei vorrei sentire io ho una mia piccola idea ma forse il professore ce l'ha migliore ma adesso faremo un sondaggio ecco ma questo tema del linguaggio violento del linguaggio d'odio mi fa venire in mente un passo di Friedrich Schiller grande poeta masnadieri eccetera eccetera che dice ode alla gioia ode alla gioia di Beethoven ritorniamo su Beethoven dice questo quando tu parli non solo comunichi qualche cosa di esterno a te al tuo interlocutore ma in realtà metti a nudo te stesso cioè se tu usi un linguaggio volgare vuol dire che sei una persona volgare se usi un linguaggio violento vuol dire che sei un violento se usi un linguaggio ironico vuol dire che sei una persona ironica ecco mi fermo qui e chiedo uno che dice che i propri simili sono come cani e porci allora chiediamoci che cosa mette in mostra di sé io aggiungo una bella e fine la notazione del professore ma aggiungo una notazione politica faccio presente che lo stesso ministro delle infrastrutture Salvini era quello che agitava dal palco il rosario e il vangelo ed è arrivato a dire una frase di questa ferocia quello era un violento alterato è stato ucciso è un morto ora è un morto tu non puoi dire non ci mancherà puoi dire anche una parola critica su un morto ma non non quella tanto più se hai fino a ieri brandito il vangelo come uno strumento di propaganda vi rendete conto dell'assurdità di una cosa del genere no io mi rendo conto che facciamo bene credo a parlarne perché noi ci stiamo abituando c'è questo mondo di parlare questo linguaggio è entrato talmente nel discorso comune che viene spacciato per sincerità non so se ci fate caso anche voi più le persone sono volgari violente aggressive nel linguaggio più vengono viste da un certo tipo di opinione pubblica come persone che la dicono chiara non sono ipocriti non sono radical chic non sono snob dicono la verità questo fa molto paura a proposito saluto il professor Zagrebeschi lo ringrazio veramente tantissimo perché questa sera mi lascia tornare a casa con qualche perplessità in meno qualche piccola certezza in più grazie professore sì no grazie a voi ma sono stupito e purtroppo è già finito come diceva una canzone di Ornella Vanoni no come diceva questa canzone di Ornella Vanoni che certamente conoscete tutti e due la festa è appena incominciata ed è già finita ma no non è finita la festa continua lei resta a guardarci poi se vuole ancora intervenire può farlo quando vuole adesso ah va benissimo io rimango qui volentieri resti grazie grazie professore perché vi mostro allora la clip delle ultime dichiarazioni a proposito di parole della nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni è molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di una parte di quelle istituzioni che dovrebbero aiutarti a rispondere ai problemi di questa nazione penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale questa nazione detto due volte nella stessa fase lei nei giorni scorsi sempre sulla sette nel programma di Giovanni Floris di martedì insomma ha avuto a che dire qualcosa sul linguaggio della Meloni infami questa volta come sei decavata con l'italiano il linguaggio della presidenta del consiglio è molto caratterizzato politicamente e l'uso della parola nazione fa parte di questo suo glossario perché la parola nazione invece di dire il nostro paese come si dice normalmente aggiunge un connotato adesso non sto a fare la storia della parola nazione che è complicata nasce con romanticismo eccetera eccetera però la parola nazione è appena la parte edulcorata di quella che è stato il nazionalismo il nazionalismo è stata l'ideologia che ha dominato questo paese per venti anni circa allora dire reiteratamente con insistenza esibita nazione 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 è un implicito riferimento a quello che dice perché quello che mi colpisce anche dei fatti di questa settimana è che il governo prende delle decisioni penso anche a quella sulla gestazione per altri come reato universale cioè delle decisioni come se vivessi in un'isola separata da tutto il resto del mondo cioè ci sono delle leggi appunto ci stegava prima il professor D'Agrebelsky non è che tu puoi improvvisamente decidere di mandare la gente in Albania così ci sono delle leggi che stabiliscono come se loro legiferassero pensassero agissero in un mondo a parte cioè appunto della nazione ma la nazione sta dentro l'Europa e l'Europa sta nel mondo e ormai non puoi più far finta che queste realtà non esistano io le volevo dire questo ieri nella nostra puntata del sabato mi ha molto colpito Achille Occhetto eravamo come ospite e quando gli ho fatto la domanda classica che sto facendo anche lei come vede la situazione si è fatto scuro in volto e ha detto guardi io da quando insomma la faccio in sintesi sono molto molto preoccupato non riesco quasi più neanche a ridere di certi aspetti anche un po' folcloristici diceva perché io vedo per la prima volta il rischio vero di deriva autoritaria parole pesanti e forti ecco lei le condivide aggiungo la mia io adesso mi devo dare un tono spigliato cordiale ma in realtà anch'io sono preoccupatissimo per due ragioni uno è l'uso disinvolto quotidiano con il quale noi usiamo bombe atomiche armi atomiche tattiche armi atomiche limitate all'uso sul terreno atomiche atomiche ormai è diventato un ritornello che non stupisce più nessuno due sono molto preoccupato dal fatto che questo governo non sta soltanto occupando dei posti a tappeto spesso a sproposito perché vediamo spesso dei risultati molto cattivi o ridicoli no sta cambiando la narrazione di questo paese però per esempio l'uso della parola nazione torno qua è uno degli elementi di cambio di mutamento di questa narrazione perché anche nella Costituzione c'è la parola nazione però è usata con una cautela scritta nel 47 non a caso insomma era appena finita la tragedia è scritta benissimo non ricordiamocelo sempre tra l'altro l'italiano ho appreso solo in questi giorni dunque in età veneranda che quando il testo venne licenziato dai costituenti prima che il Presidente della Repubblica lo promulgasse entrato in vigore primo gennaio 48 la Costituzione venne ripassata da un gruppo di linguisti che senza minimamente sfiorare il carattere giuridico dell'Evae aggiustò l'italiano nella maniera migliore possibile pensi oggi se qualcuno pensasse di prendere una decisione e allora sono preoccupato dal fatto che il cambio di questa narrazione possa preludere veramente ad un cambio ad un avvio verso una democrazia più autoritaria sono curioso per esempio di vedere che fine farà questo progetto del premierato il famoso premierato forte di cui parleremo sicuramente con il Professor D'Agrabeschi nelle prossime puntate l'elezione del Dottor Marini che dovrebbe garantirne l'iter presso la Corte Costituzionale quindi insomma è preoccupato a occhetto non ha torto c'è ancora il Professor D'Agrabeschi collegato? sono qui naturalmente ecco professore sente anche lei ha questo timore dicevamo appunto ieri occhetto adesso anche Corrado Augas che io speravo mi rassicurasse un po' invece anche lui dice no sono preoccupato sento davvero dei segnali degli scricchioli che stiamo andando verso una democrazia con meno garanzie con meno contrappesi con meno perché poi insomma non lo devo certo ricordare a voi ma la democrazia non è soltanto andare una volta ogni cinque anni a mettere una scheda dentro una fessura di un'urna è fatta di mille altre cose soprattutto dei contrappesi degli equilibri della presenza di poteri diversi del fatto che chi vince non comanda governa se è capace ma non comanda ecco lei vede il rischio di questa deriva? ma guardi io non vedo il rischio di un colpo di Stato però sono preoccupatissimo nel vedere come appunto usando la parola che lei ha appena utilizzato la deriva progressiva le democrazie nel nostro tempo non si abbattono con i carri armati ma attraverso passi uno dopo l'altro che restringono la sfera della libertà e quello che libertà di stampa libertà di opinione libertà di riunione tutta una serie di elementi che poi messi insieme fanno la qualità ecco cambiano la qualità io vedo vedo questo rischio e rimprovero me stesso quelli della mia generazione di non aver reagito a sufficienza e tempestivamente tutte le volte che qualcosa di questo genere si sommava a qualcosa di precedente come i fiocchi di neve che da soli fanno poca impressione ma tanti insieme fanno la valanga ecco poi posso aggiungere una cosa scherzosa per terminare la mia presenza qui sì è vero la Costituzione è scritta benissimo è stata sottoposta a un team diciamo di linguisti tra cui Concetto Marchesi io temo che la nuova Costituzione alla quale si sta lavorando sia scritta nel linguaggio del Ministro delle Infrastrutture ah bene e con questa sorprendente e un po' inquietante informazione previsione previsione no mi colpisce molto perché due persone come voi che hanno attraversato adesso non tutto ma una gran parte di questo secolo di democrazie di democrazia affermata che sentiate questo pericolo mi colpisce molto mi preoccupa anche ma vi ringrazio perché ci date un segnale di consapevolezza mi fanno notare gli autori che il rifondazione comunista esiste ancora quindi chiedo scusa agli iscritti di questo pericolo ho detto prima che non c'era più invece esiste ancora il progetto di rifondazione comunista Corrado Augias nel suo libro La vita si impara che è un po' il racconto di questa vita ecco lei ne ha attraversato tanti vicende e fra le tante cose volevo chiedere lei parlavamo prima di questo linguaggio violento volgare che divide che crea pregiudizi continui e che si basa sul pregiudizio ecco lei nella sua vita anche all'estero ha mai vissuto sulla sua pelle il pregiudizio di essere di essere italiano sì l'ho visto l'ho visto due o tre volte ho avuto il disagio di essere italiano sia proprio da studente quando in Francia erano ero studente avevo vent'anni venne aggredito riconosciuto dall'accento e venne aggredito da un energumero che poi venne messo a tacere dagli stessi francesi che mi rimproverava a me ventenne l'aggressione fascista del 1940 e dice ma scusi io sono antifascista in quel momento incarnava l'italiano e poi un'altra volta invece fu una derisione perché con l'amico di benedetta memoria Andrea Barbato a New York durante la guerra del Vietnam partecipammo ad una sfilata contro la guerra e allora Andrea aveva fatto un cartellino grande così c'era scritto Italians for peace e andavamo e uno dal marciapiede evidentemente uno spiritoso disse in inglese non per la pace italiani per la fuga alludendo perché noi abbiamo queste immagini di codardi abbiamo queste immagini di codardia l'Ene se ne è occupato qualche volta nel suo caffè per esempio io mi ricordo il can mi ricordo per esempio mi ricordo questo quando la Thatcher mandò la flotta dall'altra parte del mondo alle famose Falkland Malvinas qualcuno chiese al comandante della spedizione come reagiranno gli argentini e lo sciagurato rispose se sono di origine spagnola combatteranno se di origine italiana fuggiranno ecco noi abbiamo addosso questa di popolo corrotto e codardo che sono due pregiudizi contro i quali dobbiamo continuamente lottare io lì in parte racconto questa questa storia che investe noi anche Gramellini anche Zagrebelsky fior di galantuomini quando usciamo da 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 como quando andiamo oltre como sì perché il problema del sovranismo lo ricordiamo spesso è che tutti sono sovranisti a casa loro per cui come appunto da noi prospera una politica che si basa sul pregiudizio nei confronti degli stranieri anche all'estero c'è un pregiudizio verso di noi quindi non ci conviene metterci in questo gioco ecco senti in una posizione della torre di Babele lei ha detto che in gioventù era un convinto sionista e che oggi invece si sente a dir poco anzi è a dir poco sconcertato mi ha colpito molto l'uso di questa parola sconcertato Gramellini guardi voglio essere è un discorso mi chiama su un discorso delicatissimo mi deve dare due minuti li ha li ha facoltà grazie primo l'attacco il massacro il pogrom del 7 ottobre 23 il più grave dopo quelli della Shoah della guerra ha aperto in Israele una ferita un trauma perché un paese dove i cui abitanti si ritenevano finalmente al sicuro dopo secoli di persecuzioni e tutto quello che sappiamo hanno visto infranta questa certezza e su questa su questa certezza rotta caduta a pezzi nel sangue e nella violenza un capo del governo come Netanyahu che io considero una sciagura per Israele è saltato non soltanto per ripagare quella piaga ma per scatenare una guerra che sta travolgendo lui e il paese perché in questo momento Israele ha secondo come li contiamo o 5 o addirittura 7 fronti aperti o 5 o 7 adesso dislocati variamente alcuni vicini altri lontani come fa un paese di 6 milioni di abitanti anche se aiutato dagli Stati Uniti a reggere anche in termini ogni occasione come l'ultima l'eliminazione del capo di Hamas Sinwar dovrebbe essere l'occasione per dire bene adesso trattiamo o attrattiamo a qualunque costo invece quello non lo fa questo mi cioè vuole arrivare fino in fondo questo mi risulta incomprensibile salvo l'ipotesi che non voglio neanche dire in pubblico di un calcolo cinico che spero neanche lui abbia cioè del fatto che per cinico intende dire che lui la sua carriera politica è legata alla presenza di una guerra nel momento in cui alla presenza di una guerra la sua presenza la permanenza al governo le accuse che pendono su di lui ma di questo veramente a me colpisce non so se possiamo rivedere quelle immagini forse vedevamo anche prima del drone che cerca Sinwar fino a colpirlo poi il giorno dopo c'è stato un drone che è andato di colpire la villa di Netanyahu lui non c'era ecco le chiedo a un uomo come lei che comunque è cresciuto nel novecento che effetto fa vedere la cosa più atroce più terribile cioè la guerra trasformata in un videogioco un orribile videogioco ma pur sempre in qualche cosa di così che non ha più quasi niente di umano era qualche cosa che avevamo visto letto sui fumetti erano i fumetti con quelli sì certo e che adesso è diventata realtà tanto più che noi ne vediamo una parte non vediamo tante altre cose che sul campo sono già operative queste scene dei droni piccoli piccoli così non c'è il regista ormai che non usi il drone per fare le riprese dall'alto bellissime a quelli grandi che bombardano con l'operatore che sta in una caverna nel Kentucky e su uno schermo vede la macchina come si muove e sgancia il missile sono cose fino a dieci anni fa inconcepibili eh sì ci torneremo perché sono i grandi temi della modernità intanto io volevo prima dell'ultima parola volevo salutare ringraziare il professor Zagrebetsky che è rimasto a sentirci così perché era per interesse professore grazie ci vediamo domenica prossima grazie di essere stato con noi e a presto grazie professore saluto e ringrazio Corrado Augas arrivederci si eserciti sulla fantasia in famaggiore di Schubert a quattro mani sono felice di questo e vabbè ma lei mi fornisce le altre due mani? no no gliele dà il suo compagno di piano sembra bellissimo continuerà dopo vi sentite per telefono e mettete insieme questo complesso questo gruppo voi invece rimanete lì perché dopo uno spot uno spottino torniamo con l'ultima parola a fra poco ed eccoci all'ultima parola nel dedicare questa puntata a tutte le persone che in queste ore da nord a sud soffrono a causa del maltempo vorrei raccontarvi una piccola grande storia che arriva oggi proprio oggi da Catania nel centro di Catania tra i tanti sorpresi per strada dal nubifragio c'è un fattorino non più giovane in giro con la sua moto per fare delle consegne la moto affonda nell'acqua lui cade dal sellino prova ad alzarsi ma non ce la fa la spinta dell'acqua è troppo forte i suoi tentativi di resisterle inutili qualcuno riprende la scena come sempre succede col cellulare qualcuno dice poveretto e nessuno si muove nessuno tranne Angela Angela è una ragazza che lavora in un bar dei paraggi e ha il nome perfetto per la missione che la attende quella di Salvatrice sfida la corrente raggiunge l'uomo in pericolo si piega lo prende per le ascelle e lo tira su lo trascina sul marciapiede opposto al riparo in altre parole gli salva la vita e a chi gli ha chiesto perché si è buttata senza pensarci Angela ha risposto perché bisogna aiutarsi a vicenda anch'io e la mia bambina siamo state aiutate quando arrivammo in Italia nove anni fa e già perché la donna che oggi a Catania ha salvato un uomo italiano e nigeriana si chiama Angela Isaac mi chiedo come la prenderà il ministro Salvini che ha sempre una parolaccia buona per tutti forse per la prima volta rimarrà senza parole noi ci vediamo sabato prossimo la linea alla rete ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.